buongiorno a tutti guarda come parte bene la settimana guarda ma fatemi capire ma non sta la democrazia vostra ma che sei il tuo giro questo ha preso due registratori di casa mio 8 spicci faiere il carico andavi a far frutta l'oro dentro casa voglio con sotto macellava del merda sei così scemo che si volano a pocaina te fai la chiavità e tu scemo e non la pia ma stai a scherzare ma stai a scherzare e la stai a lavorare con me di se lo fai ma stiamo a scherzare stavo mo scira la legge lo dico io mo faranno la legge che prima di andare a dormire devi mettere bomba sullo scimmio sul tavolo di casa ma mica per babbo natale oh piglia macellava che cazzo fai se macellava io mi fai trovare la cocaina scira i biscotti con bicchiere di latte lo dico io ma senti quest'altro di questa prima mi devo avvelenare questa cos'è santiago di compostella stava a fare una rapina a scavarca il cancello e antonio fiordespino dei decolosi pia che mossi che lo ricoverano all'ospedale che fa chiede risarcimento pesce pala ha chiesto risarcimento pesce pala e non dà pure i soldi perché questo stava a fare rapina antonio fiordespino musicato ma che c'ha vede in testa l'acqua di napoli baffanculo il macellaro chiede di risarcimento vi metterebbe un biscotti al culo e vi porterebbe in giro come pellet ma stavamo a scherzare il risarcimento pesce pala c'è il segreto è una follia a riga che il faina vi saldrase a voi il faina vi saldrase a tutti quanti pure il macellaro voglio salussiare il macellaro occhio quando te bagnate e sa che te sei gonfiato ti asciò un bacione a a a a a a a a Grazie.